La porta non si apre Mi scusi, arrivo subito Io ho due pazzi in macchina Non uno, due Cazzo non c'è Come non c'è? Non c'è Era qui quest'anello, in questo maledissimo cassetto Dai, 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 vai Cazzo, cosa c'è? E adesso le chiavi ce le ha la vicina, terzo piano Luca, ma gliele devo chiedere No Marco, gliele devi rubare Ok Incredibile, questo non è il mio fratello